Giulio Orlandi, 45esima edizione della Miglianico Tour, un grande appuntamento che torna puntuale prima di Ferragosto. Sì, è tutto pronto per il 9 agosto per la 45esima Miglianico Tour, nella quale è già ben consolidato, il percorso è sempre uguale, l'organizzazione è pronta per un evento con l'augurio che è ben riuscito, con la speranza che tutto va bene e che ci sarà un bel numero di atleti, che noi ci siamo organizzati e preparati per accogliere un bel numero di atleti perché è un evento a livello internazionale. Ma questa sarà anche una manifestazione per la promozione del territorio. Il nostro impegno l'abbiamo veramente dedicato proprio a questo perché abbiamo geograficamente una regione veramente eccezionale, con non solo mare e monti ma anche nell'interno che offre veramente delle belle cose per tutti gli atleti e nonno. Quella del 9 agosto sarà una giornata tutto a Sporta Miglianico, alle 18.15 ci sarà la gara competitiva che sarà preceduta da altre manifestazioni non competitive. Alle 16.45 partono i ragazzi, sono quattro gruppi, che per poi partire con le 18.15 con gli adulti, la gara competitiva e il 9 km non competitivo.